Quando pensi che in realtà hai già vissuto tutte le possibilità, perché io mi animo a parte, Luigi è ancora di più che ha tanti anni di esperienze in più e quindi vivi promozioni, stagioni meno fortunate, vittorie, trofei, grandi pagine di storia e anche grandi momenti di down in cui il nostro lavoro è attenzione, quando le cose vanno male il lavoro della squadra a presa al campo è quintuplicato. Perché? Perché devi soprire alle carenze. C'è tanto lavoro dietro, ogni giocatore ha delle esigenze, ogni giocatore ha delle abitudini che noi cerchiamo di soddisfare in cambio di prestazioni di un certo tipo. È chiaro che non sempre ci riusciamo, però penso che sia così anche per voi a scuola, ci sono delle volte che uno studia e non va bene, non studia, ma ha una botta di fortuna e ricorda una bocca di romello, diciamo. La parte importante, secondo me, il consiglio che vi do è essere veramente affamati di cultura, questa è la parte più importante, non chiudervi in una piazza figurativa senza aprire gli orizzonti a tutto, soprattutto adesso che con internet, con tante mille cose potete variare la vostra conoscenza. Durante la settimana santa, l'isola si avvolge di una piazza, si avvolge di un mistero nella tradizione dei diritti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna online, approfitta della promo. Apri subito il conto online, più facile, più veloce, da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna. Passa a Tiscalimobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della Sim è gratis. Chiama il 130. Salone climatOULDÆ. Grazie a tutti. Calone Gambo di Sardegna.